Allora, buonasera, siamo all'ultima partita della giornata, abbiamo Frank Lobster Lobster Frank Lobster Avevo letto una O, scusatemi E poi abbiamo Economia Matomato Allora, la partita termina No, gli altri, gli avversari Non ridere Termina per 8 a 2 Per i Frank Lobster Allora, abbiamo la mia collega Sonia Che ci presenta i ragazzi Si, si è deciso Carmen, prego Bernan Antonio Angelo Iodici Lui dice invece, com'è la tua squadra, come si chiama? Frank Lobster Ah, si, 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 l'ha imparato Fabio Rega Fabio Rega Allora, doppietta di Rega, tipretta di Ragosta e tipretta di Perna Abbiamo qua Fabio Rega, a chi dedichiamo il gol? A noi amico Antonio Perna Tutti e due? Sì, sì Perché sei generoso Per lui, per lui Allora, ce la sta Vabbè, mi dispiace per lei Iodici Iodici non ho segnato Allora, visto che tu non puoi dedicare a niente Fai un commento sulla partita, per cortesia Commento? Allora, abbiamo giocato un'ottima partita Direi Abbiamo iniziato bene, questa è una squadra, era un test importante, una squadra un po' più forte rispetto alle altre, però è andata bene Avete avuto un attimo di defiance e infatti l'altra squadra ha segnato due gol, come mai? Eh, siamo rilassati un po', stavamo gullando sugli allori Vabbè, capita, l'importante poi è portare la vittoria in porto Tu? No, volevo dedicare i gol a una ragazza che inizia per la M, non faccio il nome perché è segreto No, non ti può dire È misterioso Con la A Eh, poi le altre gol alla mia famiglia perché mi hanno fatto arrivare fino a qui Addirittura Ma come sono seri Ok, la Champions League Ragazzi, questa partita di Champions, molto combattuta La Coppa, ma il trofeo Carmen, fai tu un commento finale, voglio anche il tuo su questa partita Allora, questa partita, i migliori in campo Ah, allora, è stata una partita di Kitaka Mi suggeriscono il tunnel Il tunnel di Fabio Rega sulla fascia Eh, ma non vale Scusate, allora facciamo un commento serio No, l'ho vista, solo che di calcio non capisco tanto bene Quindi, vabbè, comunque è stata una bella partita Anche se voi eravate comunque molto più forti Non mi fa ridere E vabbè, sì Cosa? Sei di parte? No, no, no No, io sono, gli altri sono tutti i miei amici, quindi Ok, ce ne dobbiamo andare Dobbiamo andare Fabio, fai tu un saluto Da parte della tua squadra Sponsore, ricorda lo sponsor Fai anche l'ho bestia Buon like da tutti Arrivederci ragazzi, buon sabato sera Ciao